Sì, perfetto, grazie. Buon pomeriggio a tutti gli amici all'ascolto al TG8, buon pomeriggio al presidente del Chieti, Filippo Di Giovanni, grazie per aver accettato il nostro invito. Per capire quanto questa, con 5 punti di vantaggio, 48 il Chieti, 43 il San Buceto, quanto possa essere definita la fuga decisiva? Sicuramente 5 punti sono un distacco importante, ma sicuramente non sono un distacco tale da permetterci di tirare i remi in barca. Noi abbiamo cercato di tenere alta la concentrazione e la tensione agonistica, perché comunque era importante riuscire a conquistare un po' di vantaggio. Finalmente ci siamo riusciti, però questo assolutamente non è un motivo per mollare, perché per quello che mi riguarda il campionato comincia adesso. Adesso bisogna essere capaci, dopo aver fatto bene, di confermarsi nel far bene. Tra l'altro dopo tante difficoltà iniziali c'è stato un cambio di allenatore, nonostante questo a fine gennaio avete già un vantaggio importante, significa che la qualità della squadra è molto alta. Io credo di averti detto a settembre, senza trasformare le dichiarazioni in proclami, che c'era un obiettivo e che tutto quello che si riteneva fosse necessario per perseguirlo, la società l'aveva fatta. Poi il calcio chiaramente è fatto di partite in cui si gioca contro un avversario, qualche difficoltà all'inizio c'è stato, però poi alla fine credo che fino adesso le parole e le affermazioni di inizio anno credo che siano tornate fuori, nel senso che la qualità di questo gruppo, qualità tecnica ma anche e soprattutto qualità umana alla lunga sta venendo fuori e vediamo in campo un Chieti che va ogni partita a lottare come se fosse una finale dal primo all'ultimo minuto. Alle nostre spalle lo stadio di Chieti dove giocate, lo stadio Angelini, questione Manto Erboso, questione stadio, tutto risolto, qual è la situazione? Ma guarda, la situazione è questa, noi abbiamo fatto un intervento manutentivo importante, è chiaro che questo intervento è l'inizio di un ciclo che spero possa diventare virtuoso attraverso il quale con manutenzioni puntuali, periodiche, fatte nei modi e nei tempi giusti si riesca a risollevare questa struttura che è stata per troppi anni lasciata in stato di completo abbandono. E' chiaro che le manutenzioni poi trattandosi di materiale vivo perché comunque l'erba ha bisogno di un tempo per ricrescere necessitano di essere consolidate e portate avanti, però siamo a un buon punto. L'ultima, Presidente, prima di ridare la linea allo studio, riguarda il futuro della società. Con la serie D ad un passo può fare tutti gli scongiuri che vuole, sta già pensando a rinforzare questa società per garantire il calcio anche in categorie superiori? Per quello che mi riguarda, oggi il futuro è ancora il presente. Noi abbiamo un campionato da chiudere e questo non significa che mentre si sta continuando a lavorare alla parte tecnico-agonistica non ci sia la giusta attenzione a quelli che saranno i passi e la necessaria crescita di questa compagine. Però chiudiamo la partita in... Si sta pensando un po' al futuro? Assolutamente sì. Qualche trattativa? Ma trattative, perché trattative? Per rinforzare la società. Ma io credo che questa già oggi sia una società che ha le gambe per fare bene. Bisogna capire quali saranno gli obiettivi, le ambizioni e soprattutto quale sarà la risposta della città e del territorio ad un gruppo di persone che ci hanno messo in primis la faccia, poi ci hanno messo le risorse e con impegno e determinazione credo che fino ad oggi si possa dire che hanno mantenuto promesse e impegni. Va bene, è stato chiaro, non ha voluto svelare più di tanto le cose, però prendiamo buona la promessa che questa società ha le gambe per fare bene anche in categorie superiori. Con queste parole, direttore, io ti restituisco la linea e tutto. Linea allo studio.